Allora, adesso stiamo fuori dal Dubai Mall, al centro commerciale, sotto al Burj Khalifa e eccolo là, visto, esatto, e tra pochissimo inizia lo spettacolo delle fontane, quindi quelle che fanno qui dentro questa piscina. E quest'anno hanno fatto queste pedane galleggianti, vedete, esatto, per stare più vicini possibile alle fontane, quindi per godersi ancora di più l'effetto delle fontane. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! E voilà, finito! Bellissimo! Se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale!